benvenuto caro amico della riete andiamo a vedere le mie carte cos'hanno per te vediamo un po l'amore quindi la sfera affettiva per il tuo segno zodiacale ok non ho dato non darò tempo in questo video quindi questo video avrà valore dal momento in cui tu lo vedrai che novità ci sono per il segno della riete che novità ci sono per il segno della riete ok qui c'è la bara non vi preoccupate è un po setra come carta il giardino semplicemente mi parla di uno stallo o di una chiusura o di un fermo diciamo ok esatto il giardino e le stelle ma allora qui da queste carte arrivate c'è un qualcosa che viene chiuso come dicevo quindi un qualcosa che si è concluso che si sta concludendo o semplicemente che non c'è che non decolla e non va che non cresce che non c'è quindi uno stallo un fermo diciamo di una di una certa situazione io a dire il vero qui ci vedo anche un pochino la mortificazione passami termine la mortificazione di una sua ambizione che può riguardare anche altre persone quindi io non so per esempio a pochi amici poche persone intorno a te quindi un po diciamo sì quello che ho detto la mortificazione di un qualcosa però andiamo a vedere per la riete vedi lascia fare tutto al destino qui c'è proprio una persona cioè te ariete che potrebbe decidere proprio di lasciare andare le cose così come devono andare affidare tutta l'universo affidare tutto appunto al destino vediamo per la riete qui c'è un bisogno di aggiustare un pochino il tiro mi dice la carta magari c'è un qualcosa che deve sistemare e devi fare cioè aggiusta proprio il tiro un qualche aggiustamento alla situazione lo dovresti fare vuote unito release e nello stesso momento devi lasciare andare ed effettivamente queste due carte vanno a braccetto si sposano proprio abbiamo visto che c'è un qualcosa che la riete deve lasciare andare che si deve lasciare alle spalle noi stiamo parlando di amore quindi un qualcosa che riguarda proprio la sua sfera la sua sfera affettiva vediamo i tarocchi come parlano cosa ci dicono vediamo per il segno zodiacale della riete allora però fatemi partire bambini per la riete bella alta bella la carta dell'imperatrice quindi io si vedo proprio a riete sicuramente padrone di te stesso padrone di te stesso le idee qui sono molto molto chiare ti vedo molto molto sveglio sicuramente sai benissimo cosa vuoi e come ottenerlo vedi qui tutte le arte però mi parlano di un progetto di un'idea di un qualcosa no che hai però ecco molto come si dice lasci molto fare al destino all'universo a quello che deve essere ecco un po in questo senso ariete ok di nuovo e qui c'è la riete caro ariete qui c'è una chiusura in ballo sicuramente va superato questo dolore questo dispiacere di questa chiusura qui c'è stata una fine c'è stata c'è una fine e la riete si allontana si sta allontanando da una situazione qui tutte le carte lo dicono la riete sa benissimo è giusto così anche le carte te lo dicono è giusto così per te per te giusto così però insomma qui il dolore c'è o giusto sbagliato voglio dire io una fine un abbandono fa sempre male qui c'è proprio un prendere le distanze un allontanarsi da una situazione che ormai ha fatto male ha ferito e ha fatto danno mi verrebbe da dire quindi qui c'è una riete veramente ed effettivamente qui tutte le carte se lo stavano dicendo qui c'è bisogno di lasciare andare ed effettivamente tutte le carte parlano dell'allontanarsi da una situazione ormai finita ecco quindi chiusura per la riete ma andiamo a vedere ok ma qui vedi cioè qui tutte le carte mi parla di chiusura via arrivate cioè paura fa di chiusura di allontanamento di fine di un qualcosa ma qui ci sarebbe ci sarebbe un'opportunità un qualcosa di nuovo che preme per entrare nella sua vita io la vedo però tu la rifiuti o almeno qui come dire ora voglio pensare a me ora voglio pensare a me voglio essere l'imperatrice della mia vita in poi parole ok voglio avere io il comando il controllo della situazione raccomando tra virgolette ma voi capite cosa intendo dire qui c'è una riete che prende le distanze se ne va da una situazione che ha fatto molto molto male però cioè io qui qualcun altro intorno se lo posso anche vedere c'è qui altre chance tu le potresti avere guarda la giustizia con la regina di denari qui sei anche una persona molto attraente molto briosa piena di fascino bella una bella persona io ti vedo l'appariscente cioè voglio dire qui le tue conquiste sicuramente tu le potresti fare sono sicura che non ti mancherebbero volendo guarda la un 3 di hop cioè ok quindi sì però ecco magari tu sei più o sarai più focalizzata sui divertimenti divertimenti con gli amici divertimenti per te stesso se stessa sono più focalizzato su di te la riete che non sulla coppia e qui fanno vedere sto 10 di spade un 5 di spade cioè son carte pesantucce vediamo un po' per la riete poi vediamo il futuro cosa ti promette perché io qui una qualche novità la vedo però le come se tu non tutti dovessi fidare di questa novità vedi qui c'è il 4 di coppe con le stelle qui c'è stata proprio una delusione profonda per la riete qualcuno che t'ha deluso profondamente proprio come dire pensavo fosse amore invece manco era un calesse neanche le ruote nel calesse ecco però ecco quello che mi consola qui vedo la la novità qui sicuramente la novità c'è come si dice ne busca sempre il giusto per il peccatore si dice dalle mie parti nel senso che qui vuoi questa delusione questa persona che ci ha delusa eccetera eccetera che la novità che arriva magari non gli credete o sarete molto sulle vostre qui vedo una riete che non si fida che sarà molto insomma capito ecco chi sei codice fiscale da dove arrivi cosa vuoi allora andiamo a vedere allora per la riete il fante di il fante di coppe e l'otto di denari allora qui sicuramente c'è una riete che avrà un'altra chance quindi qui io vedo l'arrivo di qualcuno di qualcosa di nuovo nella sua vita ma vedo anche gli arieti magari non è per tutti per carità che si li vedo molto dedicarsi magari più al lavoro che non all'amore almeno in questo momento è per questo lasso di tempo di questa stesa per carità poi fra un po' rifaremo le carte andremo a vedere se le cose cambiano ma per ora io vedo una riete alle prese con questa cosciente delusione qui c'è una chiusura molto 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 dolorosa per la per la riete vissuta magari quasi come una sconfitta non escludo magari qualche parola brutta insomma qualche cattiveria che magari ci siamo fatti insomma ecco o più semplicemente una riete che non ha nessuno insomma che arriva da un momento di singolitudine come si dice ma qui ho chiesto e qui mi fanno vedere la novità quindi qui sicuramente un qualcuno qualcosa di nuovo arriva per te vediamo se hanno un consiglio le carte da darti fammi vedere esattamente prendi queste opportunità per essere felice allora sicuramente qui come ti posso dire non tutto è perduto aria e se no devi vedere devi puntare gli occhi questo è il consiglio e le altre ti danno punta agli occhi su ciò che hai non su ciò che non hai più ok per la riete non per niente qui c'è disegnato pure pure un cuore quindi qui sicuramente tornerai ad amare caro ariete guarda il 6 di coppe e carta bella è questa sicuramente qui tornerai ad amare qui c'è una persona che mi arriva desiderosa sicuramente di di amarti quello che devi fare mi dicono le carte è concentrarti di più su quello che hai di bello su quello che ancora hai non su quello che non hai più che non c'è più perché quello è andato ok quindi concentrati lì qui c'è una possibilità non certo remota ma anzi molto concreta di un qualcuno di nuovo qui c'è sicuramente ti vedo una persona ariete ammirata ammirata se vuoi insomma intorno a te qualcuno che già ti desidera sicuramente c'è se non c'è arriva lo vedo in modo molto molto chiaro però vedo se insomma ancora le carte le ferite ma qui possibilità tu ce ne avresti quante tu ne vuoi guarda qui questa sei tu ma anche se sei uomo è nel senso quindi una persona senz'altro al centro dell'attenzione molto bella piena di fascino comunicativa insomma qui non ti manca nulla ariete sinceramente fammi un attimo vedere vedi qui c'è molto dispiacere qui si accusa la persona di non averci saputo amare o di non averci dato quello che invece noi abbiamo dato a lei ma vediamo questa persona con cui la rieta ha chiuso comunque da cui si è allontanato che fa cioè nel senso ha fatto più danni della grandine poi parole ma io si vedo verso il nuovo io si vedo verso il nuovo ariete c'è po da fare sì la persona potrebbe pure tornare per carità qui posso vedere addirittura scene di gelosia di insomma vabbè lasciamo stare ma no io credo che la riete si diriga e farebbe bene a dirigersi verso il nuovo qui si riparte da zero qui si chiude e si riparte quindi qui dispiacere tutto quello che ti pare ma vedo anche una riete che troverà sicuramente la la forza senz'altro di di reagire e di affidarsi al destino di affidarsi al destino all'universo insomma ai tempi dettati diciamo così dalle dalle stelle va bene ariete quindi si chiude un libro e se ne apre un altro magari con un titolo molto meglio del primo un bacione grazie per essere stato qui con me ariete ti aspetto al mio prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei no eccoci qua